Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il grande volley di una puntata in cui parleremo del primo successo stagionale delle più pomiche a Salmaggiore che ha sbancato Perugia. Ci sono state un po' di difficoltà ma poi è uscito anche il carattere di questa squadra, un carattere che ha raccontato a trovarci la centrale delle più pomiche a Salmaggiore, Mina Popovic. Ciao Mina. Ciao, buonasera. Benvenuta, ti chiederemo tantissime cose perché tu arrivi anche da campionessa europea, hai davvero tanto da raccontarci e poi vogliamo sapere anche quelle che sono un po' le prime impressioni di questo avvio di stagione con Salmaggiore. Io sono davvero contenta e sono finalmente arrivata con le ragazze e quindi abbiamo vinto la prima partita di questo campionato e sì come avete detto anche voi sono stati un po' di momenti difficili dove però siamo davvero contenti che abbiamo dimostrato che possiamo giocare e anche importante. Avete sentito, insomma, Mina ha voglia di parlare, noi spremeremo tutto da questo iniziato con i centrali. Settimana scorsa Federica Stufi, oggi Mina Popovic, ma iniziamo anche ad ospitare i perni della Croma Visabo-Fanengo, campionato di serie B1. Non è iniziata benissimo però abbiamo qui coach Dino Guadalupe. Ciao coach, benvenuto. Ciao. Lei ha vinto invece nella gara d'esortio. Buonasera a tutti. Ciao Elena, benvenuta. E poi per parlarci di tutto dalla serie A1 alla serie B2 e oltre, Matteo Ferrari del quotidiano alla provincia di Cremona. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera avvocato. Avvocato. Parliamo. E poi avete visto questa inquadratura sugli spalti, torna a trovarci una società che possiamo dire è nostra amica, ormai credo sia la terza, e torna a trovarci il Corona Volley. Fatevi un bel applauso. Corona Volley che ha festeggiato anche i 60 anni del sodalizio proprio di recente. Avremo modo di parlare con loro. So che hanno già preparato delle domande per Mina Popovic e per i nostri ospiti. Noi adesso dobbiamo cercare di entrare nel vivo, lo facciamo anche attraverso i messaggi 338 60 10 512. Scriveteci via sms, via whatsapp. Noi cercheremo di interagire con questa parentesi perché come avete notato non c'era la consueta copertina con le immagini più belle della giornata di campionato perché è cambiato un po' il panorama dei diritti. cercando in tutti i modi di potervi garantire ancora sia la trasmissione indifferita delle partite che anche le immagini del match da poter... Pronto riscatto dopo il capo all'esordio Casal Maggiore conquista tre punti a Perugia la svolta nel momento più difficile della seconda giornata con carattere e il crescendo di Kutti. Inciampi di lusso, esclusa Conegliano prossima avversaria delle listo. 8 volante, Palaverde domenica, Pala-Radi con Bergamo giovedì, trasferta a Iesi contro Filottrano subito dopo 8 giorni per sapere di che... Bomba serba, il neoacquisto, Mina Popovic inizia ad entrare nei cuori rosa dopo il titolo europeo con la nazionale per... Ambo cremonese, in serie B1 vincono Esperia e Ostiano, KO all'esordio per Ofanengo, in B2 Crema guadagna il primo punto stagionale. Cota, la società di Cremona ha spento 60 candeline e conferma l'impegno con piccole e grandi. Il risultato qui in trasmissione si sta già facendo sentire, perché le sento bisbigliare, hanno commentato tutte le immagini del nostro starting six. Noi dunque siamo entrati in campo e adesso iniziamo anche a dare un'occhiata a quelli che sono stati i femminili, risultato che inaugura questa grafica. Scandici ha perso in casa 3-1 con Cuneo e poi Brescia ha sbancato il... è sotto un 7-0 nei confronti del Bisonte Firenze. Proprio in questi istanti, il Bisonte ha vinto 27-25 il primo set ed è la partita. E la Novara, come a nascorsa, dovrà poi partire per il Mondiale e per Club. Peraltro il 23 ottobre è una data, vero Matteo, che ci riporta indietro la memoria, ma non spoileriamo la nostra scaletta prima del tempo. Abbiamo visto, torniamo magari sulla grafica dei risultati, che così vediamo... Nell'Epiupomi Casal Maggiore che è arrivato al Palabarton di Perugia, un tempio del volley, lo dicevamo prima con Mina Popovic. Questa è stata una partita in cui Casal Maggiore è riuscita davvero a svoltare. C'è stato soprattutto nel terzo set un momento in cui Casal Maggiore è andato in difficoltà, però è riuscito a svoltarla. Sì, è vero. Ci sono stati tanti momenti difficili, soprattutto per noi, quindi stiamo cercando sempre questo feeling che ci vuole, perché lo sappiamo che anche, per esempio, Perugia, che è arrivata dalla 2, andare a vincere tranquillo senza fare di più. E quindi siamo state, secondo me, bene a tornare in gioco e alla fine vincere con tre punti. Matteo, che peso specifico può avere questa vittoria, questa prima vittoria stagionale, soprattutto per come è venuta? Perché, insomma, ci siamo anche confrontati un po' in corso della 2 set e non si è vista una grandissima pallavolo. Secondo me è un peso specifico alto per due motivi. Il primo è proprio per il fatto che nella difficoltà, lo ha fatto nel primo set, è chiaro che il recupero del terzo sia stato fondamentale. Ma l'ha fatto anche nel primo set, è stata dietro quasi tutto il parziale, giocando anche a tratti male, faticando molto, ma è riuscita a riemergere. Quello forse che non era avvenuto con Scandicci, dove pur giocando meglio aveva patito un po' di lucidità nei momenti critici. E ha un peso specifico alto anche per il fatto che il campionato ci dimostra che non c'è una partita facile. Il fatto che dopo due giornate siano solo due le squadre imbattute e solo una a punteggio pieno, che tra l'altro ne ha già giocate tre, e è conegliano, quindi stiamo parlando di una squadra forse fuori categoria per diversi motivi, nella quale ancora devi consolidare i tuoi meccanismi, nella quale vai sotto, che è forse la situazione peggiore, venendo da un altare inerte, importante, anche perché apre il cammino a una settimana difficile, perché arriverà Conegliano e poi Bergamo, che comunque è avversario di tutto il rispetto. L'abbiamo detto anche nel nostro starting six, si sale sull'otto volante, perché in otto giorni poi Casal Maggiore se la vedrà con Conegliano, poi con Bergamo al Palaradi e poi dovrà andare agli numeri, quelli che sono i risultati di queste prime giornate, con Conegliano, che ha già volato a quota 9 in classifica, perché ha vinto anche l'anticipo della decima giornata, una settimana per feste d'Italia, e poi c'è Firenze che anche stasera sta davvero sorprendendo, contro la Igor Gorgonzola, Novarac, Dino Guadalupi, insomma, Barbolini quest'anno qualche problemino in avvio con il roster ce l'ha? E più che altro hanno costruito una squadra, avendo una certa idea, adesso li infona tantissimo, anche per il discorso di utilizzo straniero o meno, infatti so che sono attivi sul mercato per cercare di rimpiazzare questa pedina, è un posto italiano che possa prendere il posto... Sembra che abbiano lavorato anche per rinforzare, e insomma, Novarac dovrà cercare comunque di sostituire Bracocevic, quantomeno prima che possa rientrare a pieno regime, abbiamo visto che se torniamo sulla classifica diamo anche uno sguardo a tutte le altre realtà, con Brescia che ha fatto l'impresa a Novarac, e poi Bustarsizio, Casal Maggiore, possiamo dire che Casal Maggiore e Mina si sta già mettendo in coda alle big di questo campionato, è un po' l'obiettivo di questa stagione, cercare di arrivare a ridosso del posto. Perché abbiamo visto anche tutte le partite sono molto tirate, non è sicuro, però comunque io penso che siamo una squadra che può andare avanti molto bene e quindi andare con le prime. Possiamo considerarlo un buon avvio, quattro punti nelle prime due giornate, considerato che alla prima... Proprio la partita contro Scandici è stata molto bella perché subito dall'inizio la può fare molto molto di più, perché secondo me è stato molto di più merito nostro che abbiamo perso, che è quello che abbiamo davvero contento. Sentiamo allora le parole di coach Marco Gaspari a corredo di quello che è il bilancio, il primo, brevissimo, ma già significativo bilancio di questo inizio di stagione. Pulita della partita contro Scandici, però più pratica, che è la cosa più importante. Abbiamo lavorato in settimana su quello che viene definito da tutti il cinismo, cioè quello di riuscire in situazioni negative e non perdersi nelle situazioni positive. C'è stato, come dicevo prima, l'esempio negativo del primo e del terzo set, ma l'esempio positivo del quarto, dove la squadra piano piano ha trovato le giuste contromisure all'avversario e ha portato a termine il set con relativa facilità. Quindi sì, il ramarico della partita di Scandici, ma penso che sia impossibile dopo. Penso che questa cosa riguardi un pochino tutte le squadre del campionato italiano. Quindi c'è da prendere quanto di buono ci ha dato il campo, ma lavorare tanto anche perché come si evince da tutti i risultati delle prime due giornate il campionato sarà molto molto complicato. Eh sì, tante complicazioni, lo abbiamo detto, anche nel nostro ci sono stati degli inciampi di lusso, Matteo. Queste prime giornate hanno regalato sorprese, imposte che sono in crescendo, ma molto in negativo per altre squadre. Insomma, a vedere Scandici che dopo due giornate con un impegno casalingo con Cucchino... Due punti, come diceva Mina, più per il merito nostro che per il merito suo. Credo che l'inizio del campionato possa essere connotato da queste alternanze e altalenanze anche all'interno della stessa partita, per due motivi. Il primo è che le formazioni hanno cambiato molto. Il secondo è anche il carico di lavoro. È chiaro che una squadra come Scandici, teoricamente, punta ad arrivare forte in fondo e quindi è normale che magari lui dà, che lo auguriamo a loro, di come sarà magari in primavera. Ha cambiato molto. All'interno della stessa partita ha cambiato di fatto due squadre, così come può essere per Novara, che ha radicalmente cambiato una filosofia di gioco e in più ha dovuto subire un'infortunio importante. E questo è un discorso. L'altro è che il campionato italiano progressivamente sta livellandosi verso l'alto. Basti pensare che Perugia di fatto aveva dentro due brasiliane che hanno fatto mondiali e olimpiadi. Quindi una squadra che mira la salvezza, che porta in Italia due giocatori così, ti fa capire qual è il livello al quale devi stare. Se è un livello altissimo, quello del campionato italiano, non si può star tranquilli nemmeno con le piccole, vero Mina? Sì. Ce lo dimostrano anche i risultati che abbiamo appena visto e sono risultati di questo campionato, Matteo, perché adesso davvero si possono rimescolare un po' le carte. A breve inizieranno anche le coppe europee. Sì, credo che delineare una griglia di partenza sia un bel gioco, però alla fine, già dopo due giornate, sembra stravolto. È chiaro che nel lungo periodo i valori emergono, ma abbiamo visto l'anno scorso un punto due a fine campionato, avrebbero fatto tutta la differenza del mondo. Questo punto due già nelle prime giornate qualcuno l'ha perso, qualcuno l'ha guadagnato su un campo dove non era preventivato lo facesse. È per questo che dico, è vero che alla lunga emergeranno probabilmente i valori reali delle formazioni, senz'altro, però quando lo scarto è così minimo rischia davvero di avere un peso specifico ancora più alto, e per quello che dicevo che la vittoria con Perugia ce l'ha, è perché andare a Perugia a fare tre punti, secondo me, non sarà scontato per nessuno, adesso ma neanche in un secondo momento. Mina, tu come stai vivendo questa prima fase di campionato, come stai vivendo anche il tuo inserimento nel roster di Casal Maggiore? Ma bene, nel senso che da quando sono arrivata mi sento proprio dalle ragazze, da tutta la squadra, ci tratta veramente bene, nel senso ci stiamo allenando, stiamo lavorando, abbiamo creato un'atmosfera molto bella, e sono contenta perché anche le prime due partite, soprattutto prima, siamo state molto aggressive, siamo state quello che alla fine ci sono tante cose che dobbiamo lavorare, le cose tecniche, tattiche, tutto quello, però alla fine quella mentalità di squadra che abbiamo in questo momento secondo me è quella cosa importante che deve rimanere per tutta la stagione così, in questa maniera. Bene, bene, queste sono le parole di un nuovo Acquizzo al Maggiore, perché 44 e 43 Daniel Cuttino e Kenya Carcasses, vedo Dino Guadaluppi annuire, insomma, vedrai che la crescita soprattutto di Daniel Cuttino è quella che può far fare la differenza a questa, è più braccio piuttosto affidabile in attacco. La crescita di Daniel quest'anno deve essere quasi obbligata. Di obbligato direi che c'è poco, se no ci si infila in un tunnel pericoloso, però sicuramente ce la si può aspettare e può essere sicuramente questo sì. Come stai vedendo questo inizio dei campionati di Serie A1, anche di Serie A2, perché poi tu arrivi da quella, ed è un campionato a cui ambisce anche la Croma Visabo Offanengo, anche se c'è stato un piccolo inciampo subito in avvio. L'inizio dei campionati a me di solito interessano abbastanza poco, da un punto di vista proprio di analisi approfondite, proprio perché l'antiera aperto. Noi siamo un po' una nazione, è molto in funzione del risultato, però per esperienza, sempre sconfessati, è chiaro per il campionato di A1, la cosa è un pochino diversa, perché di fatto, e comunque c'è da dire che da altra parte c'è sempre poi la lotteria play-off, che rende il campionato differente. Quindi la cosa in comune, cioè non mi stupisce affatto vedere questi risultati, a volte strani, a volte sulla carta non aspettati. Oggi vediamo delle squadre, di solito ho notato che chi ha la fortuna di poter mantenere un blocco importante, che ha già avuto un quid in più rispetto a avversari un po' rivoluzionati. Che si sono a corso d'opera anche nel periodo tardo estivo, proprio per gli impegni anche delle nazionali, come Mina, che è arrivata ad una manciata di giorni dall'inizio del campionato. Abbiamo parlato di risultati più o meno aspettati, io adesso chiederei a Elena se si aspettava questo clamoroso avvio della CSV Rama Ostiano, questa bella vittoria all'esordine. Sì, esatto, ci è servito soprattutto per iniziare la stagione al meglio, questa vittoria è caduta, non proprio al massimo, però comunque anche noi veniamo da una scena cambiata, quindi bisogna trovare anche bene, ok, però poi quando scendi in campo tutte quelle piccole cose insomma che fanno la differenza devi trovarle. Quindi non siamo perse d'animo, abbiamo resettato completamente l'inizio e siamo ripartite con una vittoria. Mina, prima di andare in pubblicità, visto che Mina si lega come nome a Cremona ad una grandissima cantante che è sparita un po' dalle scene, però ogni tono io so che tu da piccola facevi danza. Sì. Ah ok, perché nelle più pomicas al maggiore c'è una cantante che balla anche, non so se hai avuto modo di conoscere, c'è una Kenya Carcasses che ti assicura incontenibile perché alla presentazione ufficiale, tu non c'era ancora perché dovevi rientrare e insomma Kenya ha iniziato ad alzare i decibel della stagione, quindi andiamo in pubblicità riguardandoci la performance di Kenya e poi chissà magari tornerà voglia di ballare a Mina. Grazie. Grazie a tutti. Ci state già scrivendo in tanti, molti messaggi sono per Mina, ti scrivono dei tifosi, sei una grandissima campionessa, grazie per aver scelto l'Apomi, ciao da Steffi, quindi iniziano ad arrivarti dei messaggi e io la domanda te la faccio per esperienze comunque increscendo, hai deciso di venire a Casal Maggiore. Ho sentito sempre le cose positive della squadra e c'ho anche amica che ha giocato qui una vita, quindi... Che non può aver parlato che benissimo di Casal Maggiore. Eh, io le... E quindi anche con l'attore, con Marco, non ho mai lavorato, però c'è sempre... Però questa volta siamo riusciti a venire qua e lavorare insieme. Ecco, cosa è successo oggi in allenamento? Oddio! Queste cose non ve lo posso dire. Niente, ci sono delle giornate buone, ce ne sono quelle un po' meno, però alla fine di quelli un pochino più brutti. Ah, ok, perché ci sono arrivati dei video da alcuni che si suono la palabaslenga di Casal Maggiore e vediamo un po', insomma, Marco Gaspari, bello fumantino. Per me non c'è un po' da ridere quando stiamo facendo un po'... E buttiamo una fibola qua, in fase di retenuto però, la fibola di *** qua, e la quale dopo la copertura mia... Ma niente! Per me c'è da ridere qua, non dobbiamo tenere l'attenzione qua, eh! Eh, Mina, dovete tenere l'attenzione, eh! Mi raccomando, se no dopo, quando viene in trasmissione, ma... No, cerchiamo di stare attenti. Ma come sta andando poi, al di là di questo episodio, insomma, che si avvicina davvero un primo tour de force di questa stagione? Sì, ma mi sa che sanno tutti come lavorare con le donne, perché non noi... ...danno tanti motivi. Quindi, vabbè, un allenatore lo sa che lavoro deve fare, quindi abbiamo visto. Però, è vero, dobbiamo mantenere la concentrazione, poi lavorare bene, fare tutto quello che attiva, perché, vabbè, questa sarà sicuramente più difficile dell'altra, però dobbiamo ogni settimana cercare di migliorare le nostre cose, che ne abbiamo tante cose, che è una cosa positiva. Sono tanti piccoli dettagli che dobbiamo migliorare, per poi arrivare a dire, vabbè, noi abbiamo fatto il nostro massimo. Una settimana fa, però, di quell'oro europeo, cosa ti è rimasto? Che esperienza è stata questo campionato europeo? Ormai, insomma, la Serbia sta dominando la scena, gli ultimi due europei, l'ultimo mondiale. Insomma, segreto, come mai negli ultimi dieci anni ci sono generazioni di talenti incredibili? Eh sì, sono... Non lo so come spiegare tutto. Mentre giocavo giocattori, giocatrici, la cosa più bella che puoi fare è la fine vincere, ovviamente, sono contenti. Negli ultimi anni e penso che stiamo facendo veramente delle cose bellissime e io sono... ero proprio orgoglioso di essere la parte di... Che devo dire? Bellissimo. Direi, Matteo, che l'opportunità di giocata alla cassa è perché non ce n'erano altri. Esatto. Diciamo che hanno tutti i reparti abbastanza forniti. No, credo che la scuola serba in generale sia di alto livello. È chiaro che ne ha la poi e credo che ci siano diversi artifici. È chiaro che il lavoro parte da lontano perché quando arrivi all'apice di un movimento vuol dire che dietro si è lavorato bene in tutti i settori a tutti i palleggiatori perché credo... credo che sia fondamentale e poi vabbè hanno Boscovic che non è esattamente nessuno. Abbiamo visto da vicino che è passata anche dalle parti di Ostiano quest'estate. Però non puoi ridurre i fondamentali per l'economia del gioco della nazionale serba che in Italia non ha lasciato segno quindi così come viene negli Stati Uniti ad esempio. Quindi vuol dire che è proprio un'impostazione e la capacità poi della squadra di seguire una filosofia di giovaneamente bene in campo. Visto che hai parlato di palleggiatori insomma ne abbiamo uno anche qui possiamo un attimino sfruttarlo. Elena secondo te dovesse esserci un aggeramento tu che podio delineeresti? Ma ne parlavo giusto venendo qua con Matteo appunto lei oppure Scorupa o tra i militari. Scusata dal campionato italiano tu hai avuto modo anche di giocare in nazionale con Anna Antonievic. Sì, sì è vero ho giocato anche con l'Enso World Cup Grand Prix penso. Come sta andando l'approccio con Anna Antutesa? Sì vabbè per ora un po' non abbiamo ancora trovato quella palla giusta però sta andando molto bene perché comunque dobbiamo un attimo fare non noi due solamente noi due la squadra quindi piano piano secondo me arriveremo a quel punto dove vogliamo essere. bene bene abbiamo sentito tra l'altro proprio dalle tue parole poco fa che insomma vi siete cercati e il coach ha avuto parole importanti per te e te le facciamo sentire perché insomma sei stata nei suoi pensieri ovviamente sportivi per lungo tempo sentiamo. Mina è un giocatore che da anni che ho voluto portare alle mie squadre perché ritengo innanzitutto una ragazza una gran lavoratrice ho avuto lei e mi hanno dato tutti questo bestra delle ragazze determinate motivate a crescere individualmente a crescere per la squadra diventa tutto più facile chiaro è che Mina è arrivata da poco Mina è arrivata da un'estate non faticosa di più per lei perché comunque si è trovata a giocare olimpiche europeo e la coppa del mondo in Giappone quindi di sicuro inserirsi in un contesto abbastanza oleato per quel poco che possa essere due mesi di lavoro insieme e con una stanchezza importante alle spalle non è dei più semplici io sono convinto che Mina in questo campionato si farà ricordare per tante cose positive è una ragazza dalle doti fisiche imponenti a un salto comunque notevole mente valida a me piace tantissimo come giocatore come piacciono del resto tutte sono convinto già con quest'estate dove è stata protagonista con la maglia della sua nazione Matteo possiamo considerare Mina la vera bomba del mercato di Casal Maggiore? Sì allora la bomba del mercato di Casal Maggiore sia stato mantenere la linea di ricezione perché secondo me la coppia di bande meglio assortita del campionato o tra le meglio assortite del campionato e forse la più rodata anche a questo punto e per come piace a me intendere sono le fondamenta della squadra e poi è chiaro che avere due centrali si è importo lamentavamo lo scarso gioco al centro quest'anno finalmente possiamo tornare a vedere giocare ai centrali e siamo molto contenti di questo almeno io personalmente lo so a me Mina piace molto come centrale condivido in pieno le parole di Marco nella sua prima nelle sue prime esperienze in Italia cose molto simili alle prime esperienze di Stevanovic sebbene siano due centrali che fanno un ruolo diverso però sì la vedo con quale bene quindi tanti attestati di stima da subito per Mina Popovic dall'allenatore dai tecnici della pallavolo quindi sempre di più con la crescita anche dell'intesa con Anna Antonievic adesso apprezziamo anche il campionato di serie B1 perché della prima giornata perché qui il campionato è appena cominciato e noi iniziamo ad analizzarla con coach Dino Guadalupi con una croma Visabo Fanengo che dopo una buona pre-season al primo impegno in campionato ha steccato c'è addirittura se non ricordo male un secondo setta a dodici cosa è successo? è successo sicuramente esprimere quello che avevamo fatto vedere in pre-campionato come crescita costante proprio nella prestazione non ce l'abbiamo fatta abbiamo chiaramente analizzato cosa è successo il perché può essere successo sicuramente è complice una buonissima prova inizialmente di Sandonà che ricordiamo è praticamente il settore giovanile di Conegliano eh sì Marchio Imoco Volley credo che in questo pudine a giocare assieme soprattutto il fatto che avessero fatto anche un percorso molto più lungo alcune di loro sono state convocate sistematicamente con la 1 vacanza delle straniere e credo che questo ehm abbia fatto insomma la vita sia stata un po' più complicata di quello che ci aspettavamo anche perché eh inizialmente non ci è riuscito proprio di farlo a pochi giorni prima nell'allenamento per cui abbiamo uno sguardo uno sguardo fulmineo è il coach quindi non lo so immagino no no assolutamente sono coerente con quello che ho detto prima sull'inizio dei campionati eh chiaramente ognuno guarda in casa sua in questo momento eh non è assolutamente un alibi questo ma va dato merito alle ragazze dell'Imoco di aver messo in campo una palla a volo rodata eh spavalda molto aggressiva come ci aspettavamo quindi hanno sfruttato le loro doti e suberanza fisica e tutto il resto noi non abbiamo fatto valere la nostra maggiore esperienza in quel caso ci siamo un po' disuniti chiaramente dobbiamo partire il principio è stato prendere un piccolo break per cominciare a giocare molto più sciolti e poi far valere quell'esperienza lì e quel gioco devo cercare un attimino di riordinare l'idea in questo avvio di stagione da Offanengo a Ostiano subito un bel successo Elena lo dicevamo anche prima è importante partire con il piede giusto soprattutto dopo una pre-season complicata e ti chiedo anche com'è stato l'approccio a questo coach Giorgio Bolzoni insomma dopo questa pre-season un po' battrici iniziare subito con un bel successo davvero importante sì comunque Giorgio ci ha subito detto anche lui dimentichiamo quello che è stato il precampionato cominciamo già dal lunedì a pensare perché poi il campionato è una cosa a parte quindi infatti nel secondo ci siamo un attimino perse sono un po' riemersi anche le avversarie poi siamo state brave noi anche difficoltà a risettare tutto ripartire e poi andare comunque a vincere una partita che è il campionato insomma per Ostiano la passata stagione è stata la prima in serie B1 quest'anno vi siete già da degli obiettivi sì penso che come tutte le squadre che cominciano un campionato degli obiettivi ci siano quindi noi ci siamo dobbiamo aspettare Re Giorgio per saperli esatto aspetto che lo dica lui e in termini tra Ostiano vediamo tutte non ci sono state vittorie al tie break quindi Matteo classifica speculare tre punti da una parte zero dall'altra ha vinto l'esperia Cremona lo ha fatto bene per tre a zero contro Acquiterme ha fatto punto zero con una grandissima coreografia sugli spalti noi settimana scorsa l'abbiamo detto quasi per ridere qui in trasmissione ma c'era davvero una sorpresa sugli spalti di Crema uno striscione dedicato al coach dedicato alle ragazze diritto di stupire e insomma non è male non è male complimenti a loro hanno guadagnato il primo punto in serie B2 noi adesso dobbiamo andare in pubblicità e lo facciamo riavvolgendo il nastro vi riportiamo al 23 ottobre più importante della storia delle più pomica salmaggiore preparati i fazzoletti grazie 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 poi ci raccontate un po' del coro funziona allora ragazzi io so che la vostra società ha compiuto 60 anni ci raccontate un po' come è stata la festa è un traguardo davvero importante 60 anni per una società che lavora molto soprattutto nel settore giovanile soprattutto nel settore giovanile storia lavora su vari sport uno dei quali è la pallavolo queste sono solo poche delle atlete che abbiamo in realtà in palestra tutti i giorni e quindi vediamo un pochino di più questa è una foto che abbiamo estrapolato proprio dal vostro sessantesimo è un orgoglio per noi poter dire questo perché a parte che sono tutte ragazze splendide dalla prima all'ultima e sono tutte tostissime soprattutto ci danno tanta soddisfazione perché tra l'altro perché come tutti penso sanno il corona è nato nell'oratorio del Cristo Re e si è sviluppato attraverso l'oratorio del Cristo Re anche e poi ha preso delle strade sportive anche importanti tanti atleti anche importanti con tutti questi risultati e vedendo queste ragazze qua ci riempie veramente d'orgoglio tra l'altro indossate proprio la maglia del 60 esatto celebrativa ne ho anche una che ho portato se mi tieni il microfono un applauso perché grazie mille eccola qua con i saluti di tutto consiglio di tutti i dirigenti eccola qua ecco questa è la maglietta celebrativa dei 60 anni del Corona Volley e me la porto a casa ne ho già un'altra ma io faccio la collezione quindi sappiatelo quando venite in trasmettini invece tu per quella dei pasticcini già settimana scorsa c'era gente che doveva portare i pasticcini se però c'è un cefone perché non li ha portati noi siamo corretti in questo Permina le domande come vi chiamate io ho iniziato quando avevo 13 anni ah quindi neanche prestissimo sì no ho fatto la danza prima e sono diventato troppo alta quindi iniziava a essere complicato quindi è andata un po' così sei appassionata anche di altri ma ho iniziato con la pallavola e basta eh sì e direi che è andata bene così altre domande ah sempre Carlotta prego quali sono secondo te i tuoi punti di forza vi vicino un attimo il microfono che non so se si sia sentito benissimo perfetto si è sentito non volevo parlare di questo ho messo un po' in difficoltà però comunque eh sì ma penso com'è molto forte il muro e forse devo devo migliorare un po' in battuta diciamo così un po' in battuta forse un po' tutta la pomina Matteo deve migliorare un pochino in battuta ci si organizza sì e anche proprio la conformazione dei giocatori abbiamo pochi giocatori di battitori al salto quindi battuta a flot comunque è una battuta diversa giornata che entra giornata che non entra sei un po' dipendente dalla battuta ecco c'è forse ancora una domanda addirittura c'è un pizzino un bigliettino come ti chiami? becca luce prego la tua compagna di squadra fai cadere la palla e quindi perdi il punto come ti senti dopo il recupero di una tua compagna tu fai cadere il pallone sicuramente cambi sport no non è una cosa bella poi quando vedi la tua compagna di squadra amica che è a punto metterle di là sempre triste eh sì è sempre triste abbiamo pochissimo tempo mi chiamo Nicole cosa ti ha fatto appassionare alla pallavolo? eh bella domanda ho iniziato così perché ero troppo alta per la danza quindi è iniziato tutto così leggero però poi dopo sono andata non lo so con le ragazze con la squadra a fare questo torneo quello le partite questa cosa che stavo sempre con tanta gente appassionato tanto alla pallavolo e quindi forse forse è quello voglia di viaggiare di stare sempre in compagnia forse è quello che mi ha spinto e direi che quest'estate è il viaggio pomica salmaggiore nelle prossime settimane anzi nei prossimi dieci giorni circa a partire da domenica le più pomica salmaggiore andrà a far visita all'imoco volley con Egliano ti chiedo mia squadra che sinora le ha azzeccate tutte perché le ha vinte tutte per 3 a 0 prima punteggio pieno che magari sta già pensando anche alla Champions League quello io vorrei pensare alla nostra squadra e le cose quelle che possiamo fare perché io non penso che c'è una squadra che vogliamo andare a vincere anche col coach che sta facendo le cose in questa maniera e noi andiamo a provare a vincere Mina io mi rendo portavoce di alcuni tifosi delle più pomica salmaggiore che erano a Perugia che vorrebbero trovare anche attraverso le giocatrici l'entusiasmo per tornare a riempire anche i pullman nelle trasferte delle più pomiche quindi se vuoi fare un richiamo un invito ai tifosi a seguire questa squadra non soltanto al Palaradi che è sempre uno dei palazzetti più pieni ma anche in trasferta sì ma noi aiuta tanto giriamo e vediamo che c'è tanta gente che tifa per noi e quindi tutti quelli che hanno la passione per la polavolo che possono venire e vedere le nostre partite che noi fa un piacere incredibile per questa cosa e quindi seguiremo da vicinissimo le più povie B1 e iniziamo da coach Dino Guadalupi per cercare di capire quelle che sono le prospettive di questa Croma Visabo Fanengo Parli della prossima gara prossima gara e anche prospettive future Vabbè noi chiaramente abbiamo come società e come squadra sappiamo bene che noi siamo ci siamo attrezzati per affrontare comunque un campionato di vertice un salto di categoria e questo si raggiunge una partita per volta quindi adesso bisogna avere per volta il campionato è lunghissimo quello di serie B è veramente lungo quindi è bene stare concentrati sul presente settimana per settimana e pensare a un avversario per volta questo dunque è l'obiettivo in primis per la Croma Visabo Fanengo per Ostiano Elena l'obiettivo è cercare di replicare subito questo bell'avvio di campionato esatto non sarà una partita facile perché la prima partita anche in maniera netta quindi si può giocere giocato in quel palazzetto non è così facile è un palazzetto abbastanza difficile però ce la metteremo tutta per cercare di replicare la buona partita di sabato ci proveremo sempre sul pezzo avete sentito anche un bip bip forse perché è terminato il tempo a chiedere l'autografo ai nostri ospiti Mina ecco questo è il pallone di questa stagione con l'autografo di Mina Popovic intanto chiedo un bel applauso alle ragazze del Corona Volley ci hanno accompagnato in questa seconda puntata di sottotta grazie a Mina Popovic passa pure il pallone che lo facciamo firmare anche a coach Dino Guadalupi ad Elena Bortolot e poi anche all'avvocato perché noi vogliamo le firme lo firmano tutti e quindi noi portiamo a casa tutte le firme grazie Mina in bocca al lupo grazie 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 a voi grandi obiettivi per una grande stagione vi auguriamo grazie mille grazie a CSW Rama Ostiano e grazie all'avvocato Matteo Ferrari che sta firmando firmerà solo questa volta le prossime volte faremo firmare qualcos'altro voi che ci avete seguito alla prossima vuoi rivedere questo programma? scarica l'app o vai su cremona1.it grazie a tutti